Sì, vissaripa Sì, vissaripa Sì, vissaripa Sì, vissaripa Ma questo non è un miurito, stai cercando un nuovo mato Vissaripa 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 6 minuti, quando è tempo mutato, quant'è? Non lo fai per finire ancora, eh? Scusami, per 6 minuti Per le foto sono 15 e poi devo farlo affidare qui E poi non mi vuole vedere in qua 6 minuti, non mi vuole vedere 7 minuti E 27 minuti, tu li fai di sotto, poi ne arriva, non lo fai Allora, arriva al prossimo Tutto le sedi Allora, arriva al scorso questa cazzo, questa coda l'ha fatto fare pezzo di cazzo pezzo di cazzo va fatto fare questa coda un pezzo di cazzo che è spinto nella burba si caldera anche qua il motore si caldera dove sei arrivato? va bene, e si va dove è andato? dici l'ha arrivato? bastardo questa coda è andato è andato è andato è andato è andato è andato è andato